Da edificio fatiscenti ad un museo dedicato al Santo di Mira nel cuore di Barivecchia. Dopo 30 anni di carte bollate e una serie di interventi di restauro nasce a Bari il Museo di San Nicola. Un'opera costata circa 3 milioni di euro in cui sono esposti ori, reperti ed icone che narrano il culto del Santo che unisce Oriente e Occidente. La struttura a cui si accede dall'arco vanese non distante dalla basilica è quella che un tempo era l'ospizio dei pellegrini fatto edificare dalla batelia colui che ha guidato la spedizione per la traslazione delle ossa del Vescovo di Mira. Ora il Museo Nicolaiano costituisce una delle tappe della cittadella nicolaiana. I progetti ce ne sono veramente tanti, sono sempre dei sogni, non tutti si avverano perché sarebbe, andremo certamente all'infinito, però almeno quelle che riusciamo a concretizzare noi ci sforziamo di parlare. Su orari di apertura e informazioni pratiche risponde il direttore del museo, padre Alessio Romano, costo del biglietto d'ingresso 3 euro. Il museo sarà aperto tutti i giorni, dalle 10 e mezza all'una, nel pomeriggio invece dalle 15 alle 17 e 30, il sabato fino alle 18 e la domenica fino alle 19. Resta chiuso il venerdì per motivi anche un po' tecnici. È organizzato per poter accogliere tutti i turisti in quanto è dotato di computer che spiegano la storia del museo e anche la storia di San Nicola e quindi anche del tesoro che poi siamo andati a musealizzare nelle lingue principali che sono l'inglese, il russo, perché i pellegrini russi sono quelli più numerosi e poi anche il tedesco.